E' ritornato a nevicare in Sila, una notizia che rallegrerà sicuramente gli imprenditori turistici del luogo e i tanti sciatori che in questi giorni stanno affollando gli impianti sciistici di Camigliatello Silano. Sono circa 10 i centimetri di neve che sono caduti nella giornata di oggi al di sopra dei mille metri. Nessun problema si segnala per quanto riguarda la viabilità sulla strada statale 107 e la Silana Crotonese perché i mezzi dell'ANAS lavorano ininterrottamente per tenere pulita la sede stradale, mentre qualche difficoltà si segnala su alcune strade interne a Camigliatello Silano dove la competenza è della provincia di Cosenza, specie la via che porta agli impianti di risalita del Tasso. Disaggi che si vanno ad aggiungere nel piazzale antistante le piste da sci a causa dei rami dei pini che appesantiti dal peso della neve rappresentano un rischio per i parabrezza delle auto come già accaduto lo scorso anno. Un problema sia quello della pulizia della strada che dei pini più volte sollecitato dal sindaco di Spezzano Sila Salvatore Monaco. Con dei solleciti e delle lettere avvenute già nei mesi scorsi a Calabria Verde per quel che riguarda la presenza di questi pini nello spiazzo che andrebbero tagliati anche perché molti di questi sono malati e alla provincia di Cosenza per la pulizia della strada.